La fine dell'anno è sempre un'occasione per i consuntivi e per pensare alle cose più belle e importanti per l'anno nuovo ed è per me l'occasione per dirvi che sono davvero orgoglioso del nostro consuntivo 2015. Ovviamente nessuno può dire che viviamo nel paradiso terrestre o nell'Eden, ma tutti quelli che sono in buona fede devono riconoscere che noi siamo stati un paese in cui la sicurezza ha tenuto. E' attenuto in un momento molto difficile per tutto il resto del mondo, basti pensare ai tragici fatti di Parigi, al doppio tragico fatto di Parigi, quello di gennaio e quello di novembre, per sapere e rendersi conto di come nel nostro continente, a pochi chilometri da casa nostra, si sia consumato in Europa un attacco terribile alla nostra libertà. Il nostro è stato un paese che ha retto, ha retto nella lotta al terrorismo, soprattutto per un'attività di prevenzione veramente straordinaria che le forze dell'ordine hanno saputo fare, che voi avete saputo fare, perché gli italiani sanno e ne sono consapevoli, lo dimostrano anche negli indici di fiducia quando ci sono i test che vi riguardano, gli italiani sanno di avere a che fare e di poter contare su dei professionisti della sicurezza come pochi ce ne sono al mondo. Io sono molto orgoglioso di questo e sono molto fiducioso che così continuerà ad essere per l'anno prossimo, perché i risultati che noi abbiamo ottenuto nella prevenzione al terrorismo internazionale non sono ovviamente i soli, ma basti pensare al lavoro straordinario che abbiamo fatto in termini di contrasto alla criminalità organizzata, beni sequestrati, latitanti arrestati, presunti o ritenuti mafiosi arrestati, dove per mafiosi intendo appartenenti a tutte le mafie, latitanti che hanno dovuto interrompere la loro latitanza per un blitz di qualcuno delle nostre donne e uomini in divisa, cioè di qualcuno di voi. Bene, questi risultati sono risultati che si sono propagati in tutto l'asse del nostro sistema della sicurezza. Voglio parlare di un argomento al quale mi sono particolarmente affezionato nel corso di questi anni qui in questa scrivania al Viminale, cioè la lotta alla contraffazione all'abusivismo commerciale. Risultati anche qui straordinari. Oppure l'ordine pubblico. Abbiamo fronteggiato circa 10.000 manifestazioni a venti rilievo dal punto di vista dell'ordine pubblico e possiamo considerare che tutto questo si è concluso con un bilancio molto positivo per un grande paese che deve avere sempre chiaro che c'è un punto di equilibrio da trovare tra la libertà di manifestazione del pensiero e la libertà di ogni cittadino di godere della propria città. Oppure ancora il terribile, bruttissimo fenomeno della violenza di genere, della violenza nei confronti delle donne. Voi siete stati anche in quel campo in prima linea. Oppure cosa dire del lavoro straordinario che è stato fatto dal punto di vista della sicurezza stradale o ancora tutto il lavoro che è stato fatto per i grandi eventi, prima su Expo e adesso sul Giubileo. Vado a dire le cose più importanti ma vorrei anche sottolineare con grande forza il lavoro dei nostri vigili del fuoco. Non solo le forze dell'ordine ma anche il soccorso pubblico, i nostri vigili del fuoco. Oltre 700 mila interventi in quest'anno 2015 per una media di più di 2 mila interventi al giorno è il risultato straordinario di un corpo che riesce a essere sempre lì in trincea e in prima linea. È stato un anno di ottimi risultati perché poi quando si fa un bilancio occorre sintetizzarlo con un numero. Quel numero è meno 10% di reati. Cioè l'indice di delittosità ha visto un calo del 10% dei reati nel nostro paese. È un elemento molto importante che segnala una tendenza perché anche l'anno scorso nel 2014 sul 2013 i reati erano calati. Adesso dobbiamo concentrarci ancora di più sul tema dei furti, sul tema delle truffe agli anziani. Noi non possiamo consentire che tutto ciò continui ad avvenire con queste dimensioni nonostante anche questi siano calati. Bene, io penso che il bilancio del 2015 sia il migliore abbrivio per un 2016 ancora eccellente e credo che il vostro lavoro, la vostra professionalità sia esattamente la nostra forza. Noi siamo un paese grande, siamo una grande democrazia che può contare su forze dell'ordine altamente addestrate a cui il nostro paese, e mi sia permesso di dirlo, il nostro governo esprime profonda gratitudine e lo fa con fatti veri e concreti che ciascuno di voi ha potuto constatare essere avvenuti anche nel corso delle ultime leggi approvate in Parlamento. Andiamo avanti così, continuiamo ad andare bene, così come abbiamo fatto nel 2015. Un pensiero lo vorrei dedicare, ed è un pensiero conclusivo, alle vittime del dovere. Qualcuno non c'è più perché si è sacrificato servendo la propria divisa, e servendo la propria divisa significa avere servito la propria patria, la nostra patria e la nostra Italia. A chi non c'è più, essendo caduto nell'adempimento del proprio dovere, noi dedichiamo un pensiero commosso non solo a lui, ma anche alle famiglie di tutti coloro i quali non ci sono più. A queste famiglie noi mandiamo veramente un abbraccio caloroso, sperando che il 2016, che non potrà cancellare il ricordo o quantomeno possa allenire il dolore. Noi per il nostro compito, per il nostro lavoro, speriamo davvero che il 2016 sia un anno di tranquillità e che il 2016 possa essere un anno in cui, grazie al lavoro delle forze dell'ordine, l'Italia si ritrovi ad essere ancora una volta una grande democrazia forte delle proprie libertà. Buon anno, buon anno a tutti.